Ciao gentlemen e benvenuti nel mio canale, io sono Maurizio Romano e sono il gentleman seduttore. In questo video parleremo di che cosa fare se lei non ti risponde ai messaggi. Prima di entrare nel vivo di questo argomento, ti ricordo di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella in modo da venire avvisato ad ogni mio nuovo video. Il peggiore incubo di ogni uomo si verifica quando la donna non risponde ai messaggi ed egli comincia ad andare in sbattimento, attendendo la risposta della donna in maniera ossessiva, compulsiva. Infatti una delle cose che la maggior parte degli uomini fa è proprio quella di assillarla e cominciare come un mitragliatore di messaggi a dire Ci sei? Mi stai sentendo? Perché non mi rispondi? Dai rispondimi! Questo che cosa andrà a creare? Andrà a creare un'immagine di te, di un uomo assolutamente bisognoso, morto di figa che non ha altro da fare nella vita che stalkerarla. Se lei non ti risponde è perché magari in quella giornata sta facendo dell'altro o perché il tuo messaggio non è stato talmente interessante, talmente coinvolgente da chiamare una sua risposta. Anche se lei è interessata a te, questo non significa che starà tutto il giorno davanti al cellulare a scriverti. Quindi anche quando lei ti risponde, non portare la conversazione allo sfinimento, non cercare di, come dico sempre, strecciarla, strecciare questa conversazione in maniera esagerata. Cerca di darle la tua attenzione a piccole dosi. Inoltre ricordati che il gentleman è un lupo paziente e nella seduzione la pazienza è qualcosa di importantissimo. Se tu vuoi il risultato, il cosiddetto tutto è subito, nella seduzione otterrai una valanga di due di picche perché la seduzione è un gioco delle parti, è qualcosa che va vissuto in maniera strategica e soprattutto va vissuto con serenità. Se tu vivi ogni relazione come un'ansia, con il bisogno di essere ascoltato, il bisogno di attenzioni, sicuramente la tua vita sentimentale sarà un fallimento totale e farà acqua da tutte le parti. Perciò se lei non risponde ai tuoi messaggi, semplicemente fai dell'altro, impegna la tua vita in altro e non pensarci. È ovvio che se non risponde per tutto il giorno e non risponde neanche il giorno dopo, significa che qualcosa non è andato bene. Tuttavia c'è sempre la possibilità di rimediare. Infine ricorda caro gentleman che non sei l'unico a scriverle e che lei riceve continuamente messaggi da parte degli uomini. Quindi se tu la assili e tu le crei pesantezza, stress, ansia e senso di soffocamento, in automatico lei ti scarterà in men che non si dica. Quindi cerca di essere originale, cerca di avere la pazienza per affrontare questa conversazione nella maniera più efficace possibile, cercando di concentrarti sul creare valore nella vostra conversazione. E quindi non pretendere che lei ti dà attenzione, ma fai in modo che sia la tua conversazione ad attrarre la sua attenzione e portare appunto la vostra conoscenza ad un livello successivo. Per questo video è tutto caro gentleman, se ti è piaciuto metti un bel like.